In molte città dell'impero, soprattutto nella parte orientale, sorsero molte comunità cristiane. All'inizio, esse erano indipendenti le une dalle altre, senza collegamenti tra loro e senza che esistesse un'autorità al loro interno. Queste comunità presero il nome di chiese, dal greco ecclesia, cioè riunione di fedeli o luogo di culto. I fedeli che ne facevano parte, mettevano in comune i propri beni e davano assistenza e conforto ai poveri. A capo delle chiese c'era un consiglio di anziani, i presbiteri, parola che in seguito indicò le persone investite della dignità sacerdotale o preti. Essi erano dediti al culto, alle pratiche liturgiche, alla predicazione. I presbiteri erano coadiuvati dai diaconi che svolgevano attività amministrative e assistenziali. Nella seconda metà del III secolo d.C., con la diffusione sempre più massicce e capillare del cristianesimo, le comunità in origine autonome formarono raggruppamenti di comunità vicine. Le diocesi. A capo della diocesi c'era il vescovo. Inizialmente incaricato di mantenere i contatti con gli apostoli, il vescovo ne divenne presto l'erede e successore. Egli aveva il compito di trasmettere il messaggio cristiano, di custodire la fede, di amministrare il battesimo. Nel III secolo d.C., il cristianesimo era ormai diventata una realtà importante e significativa per almeno tre motivi. A differenza dell'ebraismo, che era una religione nazionale, il cristianesimo si presentava come una religione universale, rivolta a tutte le genti e a tutti i popoli allora conosciuti. La nuova religione rispondeva al bisogno di credere in una ressurrezione dopo la morte, in una vita eterna. Il cristianesimo predicava l'amore verso gli altri, l'uguaglianza di tutti gli uomini dinnanzi a Dio.